Buonasera e bentornate ad un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Siena TV. Sempre a proposito di romanzi, domenica alle 18 presso la libreria Becarelli verrà presentato potenziali evocati di Guido Fruscoloni, 31enne, nato a Grosseto ma residente a Siena da oltre 10 anni. Fruscoloni ha presentato in anteprima il libro ai nostri microfoni. È la storia di un antieroe fondamentalmente, una persona che non ha nessuna chance nella vita può avere un potenziale evocato dagli eventi, da eventi particolari che succedono all'interno di un romanzo che è prettamente un romanzo fantastico. Vengono toccati gli argomenti tipici della vita, il sentimento, la passione, la perversione, l'amicizia. E poi c'è l'amore che fondamentalmente è il sentimento forse più banale da descrivere ma è quello che per forza di cose lega tutto e riesce a mantenere la trama del libro solida visto la fantasia sulla quale galleggia. E adesso la pagina.